Alano Fulvo, Alano Arlecchino, Terranova, Bovaro del Bernese, San Bernardo, Cane Corso, Brolmer, Bull Mastiff, Leonberger, Mastiff, Pastore dell'Asia Centrale, Overwart, Risse Schnauzer, Nero, Schnauzer, Pepe Salle, Schnauzer, Nero. Allora, qui dicevamo secondo gruppo, quindi secondo finalista, Cane tipo Pinscher, Schnauzer e Molussoidi, Allora, Alano Fulvo, San Bernardo, Cane Corso, Pastore dell'Asia Centrale, Schnauzer, Pepe Salle. Abbiamo i sei selezionati, no, cinque. Ecco qua, Alano Fulvo. Ecco qua, Alano Fulvo. Signori, qualche applauso fa piacere, a prescindere che sia il vostro cane, ma... Allora, un San Bernardo. Ecco il cane Corso. Il pastore dell'Asia Centrale. E concludiamo con lo Schnauzer, Pepe Salle. Ecco qua, Alano Fulvo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vince Alano. Grazie a tutti.